Sono Luigi Pedranzini e sto frequentando il secondo anno di Storytelling all'Accademia Moria. Mi sono iscritto a questo corso perché appunto mi interessava il mondo della scrittura e come progetto finale nel biennio sto scrivendo un romanzo sulla storia del mio bisnonno durante la seconda guerra mondiale. Oggi durante la lezione di scrittura creativa abbiamo letto i nostri racconti e una volta terminato il percorso mall il mio desiderio sarebbe quello di riuscire a lavorare nel cinema come sceneggiatore.